In questo periodo abbiamo pensato di proporre a bambini e ragazzi il centro estivo scacchi online. Si tratta di un vero centro estivo dove i bambini potranno fare lezioni di scacchi, partecipare a tornei, fare test, quiz e tutto quello che serve nell'attività scacchistica. Oltre a questo tipo di attività sono state inserite dei laboratori creativi dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare attraverso il coding e l'esteam tutta una serie di attività parallele a quelle degli scacchi. Una delle caratteristiche del nostro centro estivo è quello di organizzare anche una gita online al Museo degli Scacchi della città di Mazzara del Vallo. Partiremo quindi da Frascati e arriveremo a Marsala per visitare questo museo. Gli ideatori di questo centro estivo di scacchi online sono gli istruttori della Federazione Scacchistica Italiana Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese che in collaborazione con il CSI danno vita a questo centro estivo. A conclusione delle attività ci sarà anche una recita dove i bambini potranno presentare il materiale che hanno realizzato durante tutto il centro estivo.